Al settimo tentativo la Spala ha conquistato il primo successo stagionale. Per mettere sotto il fanalino di Codabra, la squadra di Leonardo Rossi si è affidata alle prodezze della coppia Menegatti-Varricchio. Il portiere si è reso immediatamente protagonista, respingendo, dopo appena 4 minuti, un colpo di testa di Galfré, pronto ad indirizzare verso la porta ferrarese un angolo di Santoni. La Spala schierata con il 4-3-1-2 di Alessandria appariva macchinosa, ma al sedicesimo andava vicino al gol con una girata di Varricchio ribattuta da Guarino, ma rischiava di vedersi crollare il mondo addosso al ventitreesimo, quando Albra veniva assegnato un rigore per un'ingenua, quanto vistosa, spinta di Dorsi su Passerò. Sul dischetto andava dalla costa, che si faceva deviare in angolo il desco rasoterra dall'insuperabile Menegatti. Sul capovolgimento di fronte, Landi faceva viaggiare Cozzolino, pronto, quanto preciso, nel pennellare per Varricchio un cross sul quale il capitano Spallino confermava tutte le sue doti sotto porta. Ci si aspettava che la rete del bomber sbloccasse l'intera squadra di Rossi, che invece arrivava all'intervallo, non ritrovando la necessaria fiducia per tornare ad esprimersi con la brillantezza di inizio stagione. Dopo il riposo, evidentemente caricati a dovere dal tecnico nello spogliatoio, gli Spallini tornavano in campo con la giusta convinzione e prendevano decisamente il sopravvento con l'intento di chiudere definitivamente la gara. Dopo due interventi del portiere Garino, sul colpo di testa di Braiati e girata ravvicinata di Cozzolino, era ancora a Varricchio con una spettacolare giocata d'antologia su traversone di Paloni a rendere vano qualsiasi tentativo del portiere piemontese. Gara che sembrava definitivamente da consegnare gli archivi, anche perché, dal 33esimo, il Bra si ritrovava in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Valeriano, autore di un intervento killer su Silvestri. Nulla di più sbagliato come il piazzamento della difesa Spallino al 40esimo, quando su angolo di Santoni lasciava spazio dalla costa per il colpo di testa che rimetteva in corsa il fanalino di coda. Sul massa calava il gelo, ma riscaldare i tifosi Spallini ci pensava quella che da considerarsi una delle vere anime della truppa di Rossi, il trattorino Landi, che partiva in percussione ed appena entrato in area, piazzava un sinistro di chirurgica precisione per il definitivo 3-1. Spal che fa un bel passo in avanti in classifica, riducendo a 3 i punti dalla zona Lega Pro unica, obiettivo per centrare il quale però sarà indispensabile recuperare al più presto gli infortunati, specie Buscaroli di Quinzi e Paro, non disdegnando in prospettiva riapertura delle liste il ricorso al mercato. D'accordo, gennaio lontano, ma è già il momento di individuare almeno due elementi l'innesto dei quali, alla luce di questo avvio di stagione, pare indispensabile per mettersi al riparo da sgradite sorprese.